Il professor Mazzari è estremamente piacevole da ascoltare e oggi ci parlerà di vedere un mondo in un granello di sabbia. Prego. Grazie, grazie Maria, grazie e benvenuti a tutti voi. Non speravo in un sabato mattina alle dieci e mezza di vedere delle persone. Ho deciso di iniziare poeticamente. Questo è William Blake, è una poesia molto bella dalle canzoni dell'innocenza che dice vedere un mondo in un grano di sabbia e vedere il paradiso dentro un fiore di campo, contenere l'infinito nel palmo di una mano e tutta l'eternità dentro un'ora. Però in tutta questa poesia, in realtà, il grano di sabbia è il chip del computer, in questo senso il silicio con cui noi facciamo tutti i calcoli che voi vedrete tra un attimo e anche qui nelle sale del centro di calcolo. William Blake era un romantico e quindi c'è questa sua famosa litografia. Questo è Isaac Newton, che in realtà è stato condannato in fondo al mare, era quella che lui chiamava la trinità infernale degli scienziati inglesi, quindi Newton, Francis Bacon e John Locke. Ma a me piace molto perché lui in fondo al mare continua a pensare e progettare, insomma così, questo era un po' l'inizio. Come Maria Grazia vi ha detto, io, diciamo, vengo dalla fisica ma soprattutto applicata alla scienza dei materiali e quando parlo di scienza dei materiali magari le persone si chiedono cosa vuol dire, cosa sono. Io faccio sempre questo esempio, se voi pensate a come è cambiata la vostra vita, come è diversa, da quanto era diversa la vita dei vostri nonni o di quanto sarebbe stata diversa la vita delle persone di due secoli fa, se vi fermate un attimo, la cosa che è veramente diversa è il modo in cui viviamo, che si può dire dominato nel bene e nel male dalla tecnologia. Mia nonna, diciamo, moriva di fame sostanzialmente come tantissime persone in Europa e alla fine la ragione per cui moriva di fame nel bene e nel male era che non riuscivamo a produrre cibo in sufficiente quantità. E questo sarà uno dei temi che verrà fuori nel corso di questa presentazione. E quindi io dico, in fondo, la tecnologia ha cambiato e continua a cambiare la nostra vita e ci soffermeremo nelle prime slide su come in realtà la tecnologia è stata resa possibile dai nuovi materiali. Quindi io spesso dico, in fondo, noi usiamo i nomi dei materiali per definire le nostre ere, quindi non è neppure una storia recente. In fondo parliamo della storia dell'umanità persino prima della scrittura. Ci riferiamo all'età della pietra, all'età del bronzo, all'età del ferro. Potremmo dire che cent'anni fa o settanta anni fa, diciamo, il nucleare ha cambiato di molto la nostra vita, il silicio la sta cambiando. E volevo cominciare questa presentazione precisamente con degli esempi, dei materiali di cui la nostra società ha bisogno, che magari usa, o semplicemente ha bisogno e non esistono, perché noi ci occupiamo molto di pensare a quali sarebbero i materiali che possono servirci. E questi sono un po' di esempi e ve li racconto con un po' di calma, perché sono assolutamente importanti per capire cosa vuol dire fare scienza dei materiali e cosa vuol dire cercare di inventare nuovi materiali al calcolatore. Prima di tutto, forse questo è il problema più importante che abbiamo, diciamo, le fonti di energia combustibili fossili sono finiti, ma non solo, diciamo, l'emissione di gas e l'effetto serra stanno cambiando, diciamo, il nostro clima. Quindi bisogna pensare, e ve lo racconterò un po' meglio, sempre di più a usare altre forme di energia e ripensare la nostra società e la nostra industria attorno ad altre forme di energia. Altri esempi, diciamo, abbiamo bisogno di nuovi materiali per cercare di proteggere l'ambiente, abbiamo bisogno, diciamo, di filtri per cercare di evitare che il mercurio entri nell'atmosfera, abbiamo bisogno di materiali che siano in grado di assorbire, diciamo, i disastri chimici che ogni tanto facciamo. Alcuni di voi avranno probabilmente degli impianti al titanio, che è un materiale biocompatibile, che permette, diciamo, agli osteoblasti di costruire attorno alla mandibola, attorno al nuovo dente, del materiale organico che si integri con questo titanio inorganico, oppure, diciamo, le protesi per l'anca, che sono ricoperte di nitruro, di titanio. Qui in Svizzera, diciamo, una parte importantissima dell'economia svizzera sono i prodotti di alta tecnologia o di alto valore, che può andare dall'elettronica alla micromeccanica all'orologeria, e noi lavoriamo tantissimo con l'industria svizzera per cercare, diciamo, di inventare o scoprire nuovi materiali che continui a mantenerli competitivi. Sempre più importante, diciamo, diventa il controllo dei cibi. Per capire se sono originali e se sono contraffatti, ma soprattutto per capire se sono, diciamo, ancora commestibili. A voi non sembrerà magari un problema, però noi in realtà buttiamo via un sacco di cibo perché non sappiamo se è scaduto o meno. E più si va, anzi, al di là, diciamo, dell'Europa occidentale, più si va nei paesi in via di sviluppo, un sacco di cibo viene gettato perché non è stato conservato bene o perché non sappiamo dire ancora se sia possibile mangiarlo o meno. Quindi questi erano, se volete, esempi in cui nuovi materiali sono utili per la società. La scienza di per sé ha bisogno di nuovi materiali. Se voi per un attimo andaste al CERN, a Ginevra, in questi grandissimi acceleratori dove si scontrano le particelle elementari, beh, ad esempio, sono resi possibili dal fatto che, diciamo, questi fasci di particelle che vanno alla velocità della luce possono essere curvati grazie a magneti potentissimi che lavorano con dei circuiti superconduttori, che lavorano con dei materiali che conducono la corrente elettrica con zero resistenza quando si va a una temperatura inferiore a 15 gradi sopra lo zero assoluto. Forse vi ricordate che due o tre anni fa, in realtà, il sistema di raffreddamento di alcuni di questi magneti superconduttori è esploso, quindi una parte intera della galleria è diventata inagibile per molti mesi. Forse avrete sentito del premio Nobel per il grafene nel 2010, un materiale che sembra banalissimo, diciamo, il grafene è semplicemente uno strato atomico preso dalla grafite, che è il materiale che c'è nel carbone o che c'è nelle nostre matite, però quando viene esfoliato, riusciamo ad avere semplicemente un piano sottilissimo di atomi esagonali, come le cellette delle api, beh, si può fare della scienza interessantissima, infatti i due ragazzi che l'hanno scoperto nel 2004 hanno rapidamente preso il premio Nobel. Come sapete, qui in Svizzera c'è moltissima industria farmaceutica, si inventano nuove molecole, che sarebbero nuovi medicinali. Noi non ci occupiamo veramente di scoprire nuovi medicinali, però la cosa interessantissima per noi è che quando si va dalla singola molecola alla forma cristallina, che poi se volete sta nella pillola che tutti noi assumiamo, beh, le proprietà di aggregazione di queste molecole seguono, diciamo, le forme della scienza dei materiali che noi studiamo, quindi capire in quali forme cristalline queste molecole si aggregano è importantissimo sia per capire la stabilità, la biocompatibilità o semplicemente perché addirittura si possono brevettare gli stessi farmaci in diverse forme cristalline. L'ultimo esempio con un punto di domanda è, diciamo, i nuovi materiali per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Tutto lo sviluppo dei calcolatori del giorno d'oggi è basato in pratica sulla tecnologia del silicio per i microprocessori e sulla tecnologia dei materiali magnetici per lo stoccaggio dei dati. Sarà così un tema che verrà fuori alla fine il fatto che i calcolatori sono fondamentali per noi scienziati e io parlerò molto di scienza computazionale. non so bene quanto siano utili al giorno d'oggi per noi come cittadini. Secondo me abbiamo raggiunto un limite in cui non siamo più preparati a gestire le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Questo tornerà alla fine, quindi non mi soffermo adesso. Voglio partire da questo, voglio partire dal problema dell'energia perché secondo me è veramente il problema più importante che la nostra società ha. Questo è un grafico che usa il cosiddetto indice di sviluppo umano. Questo è stato definito da Marty Assen, che è anche lui premio Nobel per l'economia, originario del Bangladesh, in realtà, di Dhaka. All'epoca non esisteva il Bangladesh, quindi del Bengala dell'Ovest, diciamo ancora dominio inglese. è comunque da lì, è finito a Harvard e un po' di anni fa ha molto spinto l'idea di valutare la qualità della vita nelle diverse società, mettendo assieme un po' di indicatori che hanno a che vedere con la mortalità infantile, con il grado di istruzione, con il grado di istruzione delle donne e così via. Quindi possiamo dire che i paesi che stanno in alto qui hanno una qualità della vita, diciamo come noi ce l'aspettiamo. Infatti, vedete qui, se volete, c'è l'Europa, ci sono gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada. E poi i poveri si va giù fino in fondo, qui c'è l'Etiopia, che non ha perso persino una I nel spelling, nella scrittura di questi scienziati, che probabilmente non sanno neppure dov'è l'Etiopia alla fine. Però, diciamo, la cosa che è interessante è questa correlazione, diciamo, tra la disponibilità di elettricità e la qualità della vita. Vedete, diciamo, paesi molto poveri sono anche paesi che hanno pochissima elettricità a disposizione. Io, in realtà, ho vissuto nel 2008 per un anno in Etiopia, e l'Etiopia all'epoca aveva soltanto due dighe, cioè tutta la produzione di elettricità nell'intero paese, sono 90 milioni di persone, venivano da due dighe, il che vuol dire che l'autunno va molto bene, l'estate è la stagione delle piogge, quindi in autunno c'è un sacco d'acqua, le dighe funzionano, e poi quando comincia ad arrivare gennaio il livello scende e comincia a diventare intermittente, e febbraio-marzo, diciamo, significa che l'elettricità arriva un giorno su due. Io facevo un corso di scienza computazionale all'università, e quindi dovevamo fare dei conti, dei calcoli, che durassero meno di un giorno, perché sapevamo che i computer sarebbero morti, e i computer erano cinque desktop che avevo portato io dall'America. L'energia è un problema, e il nostro uso dell'ambiente è un problema. Questo è un grafico molto interessante, che dice, noi purtroppo siamo 7 miliardi, siamo un po' troppi alla fine, e diciamo, se questi 7 miliardi di persone vivessero, diciamo, nello stesso modo in cui le persone in Europa vivono, quindi con lo stesso impatto sull'ambiente, lo stesso uso delle risorse ambientali che abbiamo, beh, ci vorrebbero due pianeti e mezzo, sostanzialmente, per che tutti potessero vivere con questo livello di qualità della vita. Vivessimo come gli Stati Uniti, o come uno di questi paesi ricchi del Medio Oriente, ce ne vorrebbero 4 o 5 di pianeti, persino la Cina, diciamo che noi continuiamo a pensare a un paese in via di sviluppo, 7 miliardi di persone che vivessero come i cinesi avrebbero bisogno di un altro pianetino, così, e dobbiamo veramente andare, poveri qui all'India, al Bangladesh, per cercare di essere sufficienti. Quindi abbiamo un problema esplosivo, in cui, se volete, nel 2050 dovremmo essere 9 miliardi, e non possiamo vivere così. E questo lo stiamo vedendo, diciamo, sempre di più, come ci sia una pressione fortissima alle migrazioni, e ce ne sarà sempre di più, che è dovuta semplicemente, diciamo, finalmente la profezia di Malthus, cioè, finalmente, lo dico, ironicamente, si avvera, cioè siamo troppi e non sappiamo come starci. E starci vuol dire soprattutto cibo ed energia, e io continuo a ripeterlo, ma energia vuole anche dire cibo. Nel momento in cui il prezzo del petrolio raddoppia, il prezzo del cibo raddoppia, perché per produrre il cibo ci vuole energia, per arare la terra, per trasportare il cibo e così via. Quindi i paesi poveri sono i primi che soffrono nel momento in cui il costo dell'energia raddoppia. Noi magari paghiamo di più il pieno di benzina quando andiamo al distributore e non ci accorgiamo neanche che il costo del cibo è cambiato di un po'. Ma i paesi poveri, nel momento in cui le cipolle in India cominciano a costare il triplo di quanto costavano e la cipolla diventa, diciamo, la cosa fondamentale per mangiare, beh, diciamo, questa è una crisi che è successa, tra parentesi, due anni fa in India. Per stare sull'energia, diciamo, noi siamo abituati a pensare al petrolio o al carbone come la sorgente fondamentale. Il nucleare è stata un'alternativa da un certo punto di vista affascinante perché, diciamo, in linea di principio avrebbe avuto un impatto minimo sull'ambiente con un grandissimo pericolo, insomma, è come vivere con una grande spada sotto affinché non cade, stiamo tutti bene, ma se cade è un problema. Quali sono le altre fonti di energia? Beh, non ce ne sono tante, diciamo. Qui in Svitra siamo abbastanza fortunati per l'idroelettrico. In alcuni paesi, diciamo, l'energia eolica può essere interessante, diciamo, però l'unica soluzione veramente alternativa, e ne parlerò di un attimo, potrebbe essere, se mai ci arriveremo, e spero che ci arriveremo, all'energia solare. E se questo non funziona dobbiamo tornare al nucleare. Quindi questa è un po', diciamo, la challenge, come dico io, che ci troviamo. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Beh, diciamo, se siamo sperabilmente in un paese dove c'è abbastanza sole, possiamo cercare di convertire l'energia solare in elettricità. Questo è quello che i cosiddetti materiali fotovoltaici fanno, diciamo, questo non è molto diverso per quelli di voi che ricordano gli esposimetri delle macchine fotografiche degli anni Sessanta, che avevano un semiconduttore, il selenio, arrivava al sole, capivano dall'elettricità prodotta quale doveva essere l'esposizione corretta per la fotografia. Beh, diciamo, i materiali fotovoltaici di adesso sono tutti parenti del selenio, il silicio in realtà è uno dei fotovoltaici migliori, però è molto costoso da produrre nelle forme ad alta efficienza che ci servono e c'è una grandissima spinta per cercare nuovi materiali fotovoltaici. L'altra possibilità è non tanto quella di creare elettricità dall'energia solare, ma di creare quello che in italiano si chiamerebbe un combustibile, ma combustibile, diciamo, noi pensiamo subito al petrolio, alla benzina, ma diciamo, altri combustibili invece sono ad esempio l'idrogeno, forse non ci pensiamo. Io avevo un collega che diceva, faceva vedere una piscina e diceva questa piscina contiene più energia di quanto serve all'intera città di Londra per un mese e quello che voleva dire e noi non ce ne rendiamo conto è che se noi prendiamo un secchio d'acqua e fossimo in grado di rompere la molecola d'acqua, cosa che siamo in grado di fare se siamo in grado di rompere la molecola d'acqua quello che creiamo ossigeno che non ci serve a molto ce n'è tanto ma creiamo idrogeno che è il combustibile perfetto perché al contrario diciamo della benzina quando noi riconvertiamo l'idrogeno in acqua produciamo energia e come gas di scarto abbiamo il vapore acqueo quindi l'idrogeno in linea di principio sarebbe il combustibile perfetto assolutamente non inquinante e noi siamo in grado di convertire l'energia solare in idrogeno semplicemente prendendo un materiale cosiddetto un catalizzatore a contatto con l'acqua e in presenza dell'irradiamento solare semplicemente non siamo abbastanza efficienti cioè tutti i problemi di queste tecnologie non sono che sono impossibili semplicemente non sono efficienti e il nostro mondo è così complesso che produrre energia con un costo superiore al costo attuale dei combustibili fossili semplicemente non è possibile noi non possiamo a meno che come società mondiale decidessimo di farlo non possiamo e nel costo ovviamente dei combustibili fossili non mettiamo il costo dell'inquinamento sull'ambiente quindi se volete i combustibili fossili hanno un passaggio gratuito dovuto al fatto che non possiamo diciamo calcolarne i costi nel modo corretto quindi diciamo sarebbe in linea di principio possibile io sarei abbastanza fiducioso che ci arriveremo nei prossimi 10-20 anni convertirsi a un'energia soprattutto basata sul solare sull'elettricità sull'idrogeno però è fondamentale trovare dei materiali più efficienti e una volta qui mi è caduta una I scusate ogni tanto sbaglio lo spelling una volta che uno ha questi combustibili uno potrebbe essere l'idrogeno ma ce ne sono anche altri il metanolo ad esempio forse voi sapete che ci sono giacimenti di gas naturale paragonabili ai giacimenti di petrolio il gas naturale è metano il metano purtroppo è molto complicato da distribuire non possiamo fare petroliere di metano possiamo farle soltanto raffreddandolo perché il metano diciamo a temperatura ambiente è un gas e quindi anche compresso se ne può trasportare molto poco e quindi abbiamo bisogno di raffreddare il metano per liquefarlo e poterlo trasportare questo rende molto costoso sfruttare le risorse di gas naturale e se fossimo in grado di convertire il metano in metanolo che è una molecola molto simile solo con un atomo di ossigeno aggiunto avremo un combustibile liquido che potremmo usare molto semplicemente in alternativa al petrolio e potrebbe essere trasformato in una macchina elettrica di nuovo in elettricità tramite quelle che si chiamano celle a combustibile che non sono nient'altro che se volete l'inverso delle batterie trasformano non tanto una reazione chimica ma trasformano una molecola in altre molecole producendo elettricità e poi diciamo magari non così importante ma sarebbe molto bello riuscissimo soprattutto in ambito industriale a trasformare tutto il calore perduto di nuovo in elettricità e questi sono i materiali termoelettrici che convertono calore in elettricità quindi tutto questo racconto non è un mio racconto questo viene da un rapporto delle tre accademie nazionali delle scienze dell'ingegneria della medicina degli Stati Uniti che hanno deciso che se volete queste erano un po' le cose più importanti da fare nel nostro campo diciamo c'è moltissima c'è moltissima elettricità il problema è cosa farne di questa elettricità diciamo e quindi se produciamo elettricità durante il giorno e quando non è nuvoloso come facciamo di notte oppure quando il cielo il cielo è coperto quindi il problema alternativo è come si può mettere da parte una grande quantità di elettricità forse sarete stupiti il modo più semplice e uno dei modi più efficienti sarebbe quello di pompare acqua se avete elettricità a disposizione e avete un lago e qui siamo insomma abbastanza in forma con i laghi beh la cosa migliore è usare quell'elettricità per pompare acqua in alto e poi ricrearla dall'acqua di lago attraverso una turbina però anche questo metodo è saturato persino in Svizzera siamo al 90% diciamo non possiamo pompare altra acqua nei laghi e ci sono un sacco di paesi senza laghi quindi come si fa? non lo sappiamo benissimo diciamo ci sono alcune ipotesi molto affascinanti secondo me in cui si possono creare delle batterie enormi liquide in cui l'anodo e il catodo dell'elettrolita in mezzo invece che essere diciamo dei solidi come succede in queste batterie in queste batterie qui le batterie a litio hanno diciamo un anodo che è fatto di litio metallico e graffite un catodo che è fatto da un metallo di transizione con il litio e in mezzo c'è un elettrolita che è la cosa che esplode la prossima volta che prendete un Boeing 787 diciamo ci sono un sacco di batterie a litio che sono pronte che sono pronte ad esplodere diciamo ed è successo qualche volta quindi un aero estremamente efficiente ha bisogno di tecnologie con cui dobbiamo stare attenti quindi come immagazziniamo l'energia dalla rete elettrica e poi anche in generale come immagazziniamo l'energia per usarla diciamo se mai avete visto una macchina Tesla queste nuove macchine elettriche sono bellissime sono affascinanti e cominciano a diventare commerciali qui in Svizzera costano ancora una fortuna negli Stati Uniti sono sovvenzionate dal governo sono silenziosissime come tutte le macchine elettriche e però diciamo voi state seduti su 300 kg di batteria la macchina diciamo il piano base della macchina è tutta una batteria pronta ad esplodere e pesantissima che vuol dire che la macchina si guida perfettamente perché è stabile sulla strada in un modo fantastico e in generale diciamo adesso abbiamo fatto molti progressi diciamo e quindi possiamo andare in giro con un computer che ci dura 12 ore o un cellulare che ci dura mezz'ora però potessimo fare di meglio sarebbe ideale non solo diciamo spesso quando si parla di energia si parla di trovarne di nuova ma altrettanto interessante è usarne di meno diciamo quindi il risparmio è l'altra faccia della medaglia usare meno energia per quello che facciamo è assolutamente fondamentale un esempio che tutti voi conoscete è stato diciamo il modo in cui ci siamo spostati dall'illuminazione a incandescenza o illuminazione al neon all'illuminazione a base di led diciamo questo è dovuto al fatto che mentre i led rossi e i led verdi esistono da 1960 soltanto negli anni 90 un singolo scienziato Nakamura in Giappone si è intestardito a cercare di far crescere cristalli di nitruro di gallio che fossero abbastanza perfetti per emettere luce e finalmente potessero emettere luce blu e la luce blu era quello che mancava per avere un led bianco quindi Nakamura anche lui ha preso il Nobel ogni tanto le danno le persone giuste e adesso abbiamo diciamo l'illuminazione al led che come sapete può consumare un quarto un quinto di quello che consumavano le lampade in incandescenza quindi un grandissimo risparmio nell'illuminazione personale e industriale manca ancora diciamo semplicemente la qualità umana della luce la luce la luce ai led è ancora fredda quello che si dice è che c'è ancora un gap nel verde e sarebbe interessante riuscire ad avere dei materiali che possono emettere anche le frequenze di verde che ci mancano per rendere la luce molto piacevole un altro esempio che forse non viene in mente è quello del cemento forse voi non sapete che quasi il 10% dell'emissione di anidride carbonica l'anidride carbonica è un gas dell'effetto serra il 10% dell'anidride carbonica emessa al mondo viene o dal consumo di energia necessaria per produrre la clinker paste i precursori del cemento o semplicemente emessa dalle reazioni chimiche che succedono quando viene prodotto il cemento quindi anche un materiale così banale che conosciamo da 2000 anni i romani avevano già inventato il cemento in realtà andrebbe migliorato e questa è una di quelle industrie che sono un po' dei dinosauri cioè hanno vissuto per cent'anni sulla stessa tecnologia e non sono interessate a cambiare a meno che non siano obbligati a farle e ad esempio l'intera industria del cemento americana e europea molto in Francia anche comincia a preoccuparsi di questo perché saranno in arrivo delle norme di protezione dell'ambiente sulla produzione del cemento e quindi produrre cemento o usando meno energia o che abbia prestazioni migliori che vuol dire che ne serve di meno e che dura di più avrebbe un effetto fondamentale altrettanto altri esempi abbiamo bisogno di materiali leggeri per i trasporti uso di nuovo l'esempio del Boeing 787 che è fatto a materiali compositi di carbonio perché sono più leggeri e quindi diciamo può volare usando meno energia o lo stesso le leghe di alluminio per le nostre macchine o sempre di più magneti efficienti per i motori elettrici nel momento in cui cominceremo ad usare motori elettrici e sempre raccontando dell'energia questo è dove sta al mondo scusate qui è scritto in inglese però questa è l'energia che consumiamo questo è il petrolio questo è il carbone questo è il gas naturale e diciamo qui sotto ci sono i rinnovabili il solare il vento le maree questo è l'idroelettrico che tuttora vedete la forma di energia rinnovabile più diffusa nel mondo e questo in marrone è il nucleare che sta calando allora l'idroelettrico diciamo non è saturato ma procederà molto lentamente perché ci sono soltanto laghi e fiumi pochi che sappiamo speriamo molto nel solare nel vento però vedete è questo verde qua che dovrebbe sopperire al fabbisogno che abbiamo oggi che è la somma di questo più questo più questo quindi è qualcosa come 50 60 e abbiamo 1 quindi siamo ancora molto lontani diciamo per questo diciamo parlo spesso dell'urgenza che abbiamo nell'usare nuovi materiali supponiamo di voler sopperire a questi 60 60 mila terawatt per ora diciamo questa quantità di energia semplicemente col solare di quante celle solari abbiamo bisogno beh abbiamo bisogno di questi 6 puntini neri non è male diciamo se noi potessimo coprire questi 6 puntini neri al mondo di celle solari nei posti dove c'è più sole potremmo coprire tutto il bisogno mondiale di energia allora questi sono puntini ma quando li guardate ognuno di questi è grande due volte la Svizzera ok quindi abbiamo bisogno di coprire 12 Svizzere di mondo quindi non è semplice non è mica detto poi che non lo so il Giappone voglia prendere l'energia dalla Cina insomma ci sono le considerazioni geopolitiche qui diciamo non so cosa ci sarà tra vent'anni però diciamo non è che se vogliamo il Nord Africa sia una parte del mondo particolarmente particolarmente stabile quindi pensate alle considerazioni geopolitiche pensate come l'irradiamento solare sarà un po' l'equivalente dei nuovi giacimenti di petrolio quindi per una volta forse il sud del mondo se la passa un po' un po' meglio raddoppiare l'efficienza di una cella solare quindi trovare un materiale che funzioni due volte meglio significa dimezzare i punti neri quindi capite improvvisamente come un nuovo materiale possa cambiare drammaticamente quello che noi possiamo o cerchiamo o cerchiamo di fare allora la domanda appunto è come fare a questo punto voi potete essere disperati e dire non ce la faremo mai insomma va bene allora smettiamo qui e ci sono le castagne invece diciamo il messaggio che voglio dare è che in realtà è pochissimo che abbiamo cominciato a pensare seriamente a questi problemi la scienza di materiale è una disciplina così nuova che io spesso faccio vedere questa fotografia non so quante persone riconoscono chissà cosa sta succedendo qui bravissimi l'altra domanda è sapete cosa tiene in mano Borga? una racchetta da tennis è la famosa racchetta all wood la racchetta tutta legno di Borga quindi nel 1980 il bravo Borga batteva John McEnroe con una racchetta di legno e questo lo riconoscerete anche questa Ingmar Steinmark nel 1983 con i suoi amatissimi sci di legno allora io poi amo il legno moltissimo come materiale però è solo per darvi un'idea di quanto si è cambiata la scienza dei materiali negli ultimi 30 anni forse perché appunto non soltanto con i denti al titanio e le protesi all'anca ma i materiali per lo sport forse sono uno degli esempi diciamo più evidenti di quello che è successo di come abbiamo inventato e creato nuovi materiali quindi la scienza dei materiali è una disciplina recentissima e l'altra disciplina recentissima è la scienza computazionale che è quello che io faccio e di cui vi racconterò adesso ancora ancora un po' che ha a che vedere con non gli esperimenti che sarebbero le scienze sperimentali ma con le simulazioni con cercare di riprodurre un esperimento all'interno di un calcolatore qui uso di nuovo un altro premio Nobel del 2013 per la chimica questi tre scienziati che hanno vinto il Nobel appunto vedete qui questo viene direttamente dalla dichiarazione di Stoccolma è dedicato al calcolo computazionale in questi computer che vedete al piano di sopra delle proprietà di sistemi realistici in modi efficienti ed accurati poi con un po' di rinonia che non c'è andata giù aggiungono che il modo giusto di farlo è quello che è stato inventato da Roberto Care e Michele Parinello Michele Parinello è professore qui all'Usi all'Università della Svizzera Italiana e alle ATH e quindi la mia domanda è sempre perché non l'hanno dato a loro e non a Roberto e Michele questa diciamo è la politica dei premi Nobel però diciamo una conclusione importante qui dice le simulazioni del calcolatore e non lo dico io lo dicono loro sono diventate così realistiche che possono sostituire anche qui faccio un po' difficoltà con la grammatica sostituire gli esperimenti questo perché mi corregge pensa che stia scrivendo in inglese e fa delle sue cose torneremo a questo problema dei computer e quindi questo è quello che facciamo diciamo noi usiamo il calcolatore per cercare di capire come potrebbe essere un nuovo materiale senza dover fare un esperimento e come lo facciamo? Lo facciamo come si dice nel nostro gergo usando le tecniche da principi primi e mi ricordo appena finito il mio dottorato come menzionava Maria Grazia sono nato a Rutgers che era un posto diciamo scientificamente elevatissimo ma nel mezzo disperato di New Jersey io ero tristissimo in questo centro studentesco con questa pizzeria che vendeva una delle peggiori pizze della mia vita mi sono rifugiato nella libreria del campus e in mezzo a tante cianfrusaglie era comparso questo libro di Aristotele che ho preso in mano la prima pagina dice cominciamo from first principles dai principi primi che era quello che facevo e mi sono rasserenato cosa vuol dire principi primi? principi primi vuol dire fare delle simulazioni usando la meccanica quantistica usando diciamo la teoria fondamentale di come gli elettroni si sistemano attorno agli atomi di come gli atomi si compongono per fare delle molecole o come si compongono per fare dei materiali solidi quindi se volete tutto quello che noi vediamo noi stessi diciamo stiamo assieme al mondo diciamo grazie alle proprietà di elettroni e atomi interagenti e alla meccanica quantistica che avrete probabilmente sentito non è così complicata diciamo è un po' descrive gli elettroni come delle onde e usa le proprietà delle onde di interferenza per capire come si formano i legami chimici forse quello che non sapete è che diciamo proprio esiste una data esiste un giorno persino in cui possiamo dire beh in fondo è nata qui ovviamente tante persone nei primi anni del ventesimo secolo ci pensavano però diciamo l'equazione fondamentale che forse avete sentito l'equazione di Schrodinger è stata scritta durante le vacanze di Natale nel 1925 questo non è Schrodinger però diciamo lui se ne andava sempre in vacanza da Rosa Schrodinger era un po' un personaggio diciamo al giorno al giorno d'oggi non sarebbe probabilmente in galera perché diciamo lui aveva fatto assumere il suo assistente per poter andare a letto con la moglie dell'assistente insomma adesso queste cose non succedono e per 30 anni viaggiava con la moglie e con l'altra fidanzata e difatti era arrivato a Oxford nel 1933 l'hanno cacciato dopo un anno è andato a Princeton l'hanno cacciato dopo due anni è andato in Irlanda e l'hanno tenuto sono stati molto sono stati molto molto contenti diciamo però diciamo nel decennio del 1925 aveva lasciato moglie e fidanzata a casa ed era andato con un'altra diciamo amante sconosciuta ad Arosa siccome Schrodinger non ha fatto niente né prima né dopo quindi non abbiamo mai capito alla fine chi l'ha scritta questa equazione però diciamo lui scrive una lettera ad un suo amico dicendo che è molto ottimista perché sta combattendo con una nuova teoria degli atomi e se solo questo è tradotto dal tedesco se solo riuscirà a risolvere queste equazioni pensa che sarà molto bella e quindi questa se volete è la data di nascita della meccanica quantistica e quello che è successo negli ultimi 30-40 anni è che siamo riusciti a risolverla diciamo un sacco di implicazioni teoriche si sono capite già negli anni 20 negli anni 30 negli anni 40 ma è solamente dagli anni 60 in poi che siamo riusciti a risolvere queste equazioni in casi un po' interessanti ci sono un sacco di premi nobili in questa presentazione nel 98 è stato dato il premio nobile a Walter Kona che ha riscritto la meccanica quantistica in un modo che fosse computazionalmente trattabile quindi è dal 1964-65 in poi che abbiamo delle forme di meccanica quantistica che possiamo calcolare e al giorno d'oggi io quello che dico sempre i miei colleghi non facciamo altro questa è una lista diciamo degli articoli scientifici più citati nella storia della fisica e quelli in rosso vedete diciamo dal numero 1 al numero 16 più questi due hanno tutti a che vedere con le soluzioni al calcolatore della meccanica quantistica quindi soltanto all'interno della fisica è una disciplina fondamentale ma anche se allarghiamo un po' al campo questo è uscito un articolo su Nature nell'ottobre del 2014 diciamo su un'analisi di tutti gli articoli pubblicati nella storia dell'umanità in tutte le discipline quindi a partire dalla Royal Society nel 1700 e così via vedete l'articolo più citato è stato citato 300.000 volte e poi si sono fermati un attimo sui 100 articoli più citati i 100 lavori qui ce ne sono solo 10 ma l'articolo in tutto parla di 100 lavori vedete questa anzi è l'altezza di tutti questi articoli scientifici diciamo questa è la Torre Eiffel questa è Dubai insomma e di questi 100 lavori c'è di tutto c'è il DNA per dirne una scoperta del DNA e qui dentro neppure in questi primi 10 beh 12 di questi hanno a che vedere con le simulazioni di meccanica quantistica al calcolatore e la ragione di questo successo è dovuta al fatto che sono utilissime cioè che al giorno d'oggi come diceva l'Accademia svedese possiamo sostituire gli esperimenti con delle simulazioni e quello che noi cerchiamo di fare è precisamente di usare questi esperimenti per cercare di scoprire i nuovi materiali di cui abbiamo bisogno questa è una figura che ho preso dall'ufficio di scienza e tecnologia della Casa Bianca in realtà viene da un articolo che ha fatto un mio collega all'MIT Tom Eager nel 1995 in cui faceva presente come in genere ci vogliono 20 anni a partire da una scoperta fatta in un laboratorio alla commercializzazione un po' di questi esempi sono il teflon inventato dalla DuPont la produzione del titanio che non esisteva prima degli anni 50 oppure le batterie al litio sono state inventate da John Goodenough nel 1976 all'Università di Oxford e nel 1992 la Sony ha messo in commercio la prima batteria al litio che ha cambiato completamente il modo con cui noi interagiamo con la tecnologia e in questo spesso diciamo che noi siamo ancora fermi alle idee di Edison questo è Thomas Edison con la sua lampadina vedete come era diciamo molto fiera con la sua lampadina in mano diciamo Edison ha appunto sviluppato il metodo Edison per trovare un filamento che funzionasse ha provato 3000 materiali diversi si è fatto bruciare bruciacchiare 6000 differenti tipi di verdure ortaggi vegetali e tutto e alla fine ha trovato il materiale ottimale e non era il tungsteno ci sono voluti altri 15 anni prima di saper produrre il tungsteno quello che ha scoperto che era il materiale ottimale era il filo della macchina da cucire bruciacchiato quindi le prime lampadine per dieci anni funzionavano con i fili della macchina da cucire adesso la lampadina è importante ma forse la tecnologia più importante e meno conosciuta al mondo è la sintesi dell'ammoniaca probabilmente se pensate all'ammoniaca voi pensate al pesce vecchio oppure alla pulizia dei pavimenti però diciamo attorno al 1910 Fritz Haber eccolo qui e il suo collega quello che poi ha dato il via alla compagnia Bosch hanno scoperto come creare l'ammonia causando un materiale costosissimo l'osmio come catalizzatore poi Haber tedeschissimo ha dato al suo collaboratore il compito di provarne altri 22.000 finché hanno trovato il catalizzatore a base di ferro che usiamo perché è importante la sintesi dell'ammoniaca prima di tutto perché produciamo i fertilizzanti fino a prima della sintesi Haber-Bosch l'unico modo di avere dei fertilizzanti era andare in nave nelle isole del Cile ricoperto di guano ricoperto di cacca di uccelli e diciamo usare quello come fertilizzante invece l'ammoniaca è alla base dei fertilizzanti diciamo e spesso si dice che un miliardo di persone nel XX secolo non sono morte di fame grazie ai fertilizzanti un esempio di tecnologia buona però con l'ammoniaca si fa anche il tritolo quindi da questo miliardo di persone che non sono morte grazie ai fertilizzanti dobbiamo rimuovere 150 milioni che sono stati uccisi dalle bombe questo è un chiaro esempio della tecnologia come può essere usate in modi diversi la moglie di Fritz Haber lui diciamo durante la prima guerra mondiale faceva anche armi chimiche oltre che ammoniaca allora la moglie di Fritz Haber si è sparata sul tavolo da pranzo durante un ricevimento per protesta diciamo contro di lui poi in realtà Fritz Haber negli anni 30 ha difeso moltissimo gli studenti gli scienziati ebraici all'interno della Germania nazista e quindi è uno dei pochi scienziati che sono onorati a non mi ricordo a Gerusalemme o a Tel Aviv c'è il Fritz Haber Institute quindi diciamo ha avuto anche una parte di storia interessante in tutto questo per cent'anni abbiamo usato un catalizzatore a base di ferro Jens Norskopf che all'epoca era a Copenaghen e adesso si è trasferito a Stanford in California ha fatto vedere che era possibile esplorare le proprietà di centinaia di migliaia di combinazioni al calcolatore e trovare una lega di cobalto e molibdeno che era due ordini di grandezza più efficiente del ferro e molto economica questa specie di curva questo si chiama una plota vulcano per vedere dove sta il ferro e la sua efficienza l'osmio è più efficiente ma costa moltissimo mentre il cobalto e il molibdenon sono relativamente economici e sono cento volte più efficienti quindi da un lato scopriamo che è ancora possibile scoprire persino per delle reazioni fondamentali e studiatissime da cent'anni nuovi materiali dall'altra scopriamo anche che non basta scoprire un nuovo materiale per cambiare un'industria perché il catalizzatore non è l'unico diciamo anello nella produzione dell'ammoniaca e non importa se possiamo trovare un catalizzatore che è cento volte migliore perché questo è già buono a sufficiente ok quindi anche se potremmo fare molto meglio non è qui che sta il costo in questo caso e quindi un'industria enorme come quella di produzione dell'ammoniaca non cambia la tecnologia fosse questo uno stesso grafico a vulcano per il solare avessimo un materiale che funziona dieci volte meglio cambierebbe istantaneamente tutta tutta l'industria ancora dieci minuti come state voi volete va bene se no fermatemi o andatevene così io capisco che è ora è ora di smettere questo è un altro esempio che uso anche perché ci ha contribuito Thomas Schultes che è il direttore di questo centro di calcolo dove siete qui le sue simulazioni e quelle di altri due gruppi hanno previsto un nuovo effetto fisico nel 2001 quella che si chiama la magnetoresistenza ad effetto tunnel nel 2004 Stuart Parking all'IBM l'ha dimostrata vedete l'accelerazione lo inventiamo prima quindi sappiamo già cosa dobbiamo fare possiamo dire ai nostri colleghi sperimentali esattamente cosa devono fare quindi in tre anni lo dimostrano in laboratorio e tre anni dopo il 98% di tutti i dischi rigidi venduti al mondo si basa sulla aggiunzione ad effetto tunnel quindi questo è un esempio di invenzione al calcolatore che spinge la scienza sperimentale che spinge la tecnologia e ci dà calcolatori più potenti con cui fare delle altre simulazioni e questo è diciamo come va il nostro mondo del supercalcolo diciamo questa è una lista famosa che viene aggiornata ogni sei mesi alla conferenza top 500 e che fa vedere la potenza di calcolo nel corso degli anni questi sono numeri piccoli ma comincia diciamo da inizio degli anni 90 quindi qui arriviamo al 2014 e non ci sarà una curva ancora più recente e fa vedere la potenza di calcolo questa in rosso è la potenza di calcolo del calcolatore più potente che esista al mondo quindi vedete qui magari ci sono i giapponesi che costruiscono un nuovo calcolatore e poi per un paio d'anni è il più potente poi gli americani si preoccupano del più potente poi arriva l'Europa e così via quindi questa è un po' così la corsa all'oro sostanzialmente però diciamo sia il calcolatore questo è il più potente questo poverino è l'ultimo della lista della lista dei primi 500 quindi è pur sempre potentissimo quindi è molto più lento del più potente però vedete sta molto felicemente anche lui su una curva o su una retta se vogliamo così e questa qui blu è la somma dei primi 500 e questa è quella che si dice una curva semilogaritmica cioè di nuovo qui è difficile da leggere però qui dice 100, 1000 10.000 100.000 cioè ogni volta che andiamo su di una barretta siamo 10 volte più potenti e la traduzione più semplice è dire che in realtà le capacità di calcolo da 30 anni in realtà raddoppiano ogni 14 mesi è quello che dico ai miei colleghi sperimentali io senza fare niente sto seduto 14 mesi in laboratorio dopo 14 mesi è migliorato di un fattore 2 diciamo mentre il mio collega sperimentale ha lo stesso laboratorio di prima e se volete diciamo un po' più qui abbiamo 30 anni diciamo quello che ci voleva un anno nel 1986 ci vorrebbe ci vorrebbe un secondo al giorno al giorno d'oggi e quindi e qui voglio poi finire salterò verso la fine diciamo quindi noi vogliamo usare queste capacità della fisica teorica della meccanica quantistica avete visto l'accademia dei nobel dire possiamo fare le simulazioni dentro un calcolatore vogliamo applicarle all'invenzione dei nuovi materiali anche perché non è che ne conosciamo molti ci sono voi potete comprare adesso non sono più dei libroni un cd con la lista di tutti i materiali conosciuti in questo caso io sto parlando di materiali organici di materiali inorganici beh sono 180 mila cioè non è un numero diciamo è un numero preciso questi sono quelli che sono e in realtà ci potrebbero essere milioni o decidi di milioni di combinazioni che non abbiamo mai esplorato e quindi noi questo è quello che facciamo e questo è un esempio questo lo vedete al piano di sopra questa è l'attuale velocità con cui possiamo esplorare nuovi materiali cioè nel momento in cui genere Maria Grazia ce ne dà un pezzettino ma se ci desse tutto questo computer diciamo potremmo calcolare delle proprietà semplici proprietà complesse richiedono molto più tempo ma proprietà semplici possiamo fare 500 materiali al minuto e sperabilmente diciamo 12 anni sarà un tempo che vi menziono tra un attimo in 12 anni potremo fare mezzo milione di materiali al minuto quindi questa idea ogni 14 mesi raddoppiamo in velocità e questi sono esempi questo è semplicemente un filmino per farvi vedere come cerchiamo di capire come spezzare una molecola di metano legame tra questo idrogeno e il carbonio è molto difficile da rompere questo è un catalizzatore a base di platino che ha queste superfici un po' rugose che permettono a questi atomi di essere molto efficaci volevo solo farvi vedere così un esempio un po' della ricerca che facciamo di giorno in giorno questo è un altro esempio questo è un cosiddetto materiale ferroelettrico una peroschite in cui abbiamo una piccola gabbia ottaedrica di idrogeni con un metallo di transizione come il titanio l'orzirconio al centro ma la cosa importantissima è che questo atomo in media non sta al centro lo vedete un po' qui tende a stare un po' fuori asse in media e stare fuori asse in media vuol dire che questo sistema complessivamente non è neutro ma in realtà ha quello che si dice un dipolo elettrico e quindi questi materiali sono materiali in cui la struttura si accoppia molto fortemente ai campi elettrici e diciamo nel linguaggio tecnico vuol dire che sono materiali piezoelettrici probabilmente voi vi ricordate l'accendino piezoelettrico con cui accendere il gas diciamo si fa di molto meglio quindi i materiali piezoelettrici sono materiali che trasformano un movimento meccanico in elettricità o ricevono elettricità e si trasformano in un movimento meccanico quindi vengono usati per movimenti meccanici di altissima precisione ma vengono usati soprattutto per trasformare movimenti meccanici in elettricità e tipicamente le onde sonore allora di nuovo i doppi usi della tecnologia i materiali piezoelettrici più interessanti sono stati scoperti nel 1998 dalla marina militare americana che è molto contenta di prendere i loro sommergibili e ricoprirli di materiali piezoelettrici così hanno i sonar più potenti del mondo per mandare tutti i loro siluri dove vogliono mandarli però questi stessi materiali vengono usati per fare le ecografie tridimensionali a ultrasuoni quindi se volete una cosa che è stata sviluppata dalla marina militare americana per mandare siluri in giro per il mondo ci permette anche di fare della medicina ad alta risoluzione avrei tanti altri esempi li salto perché voglio concludere vi voglio solo far vedere una cosa di cui io sono molto fiero quando ho cominciato a fare questo lavoro usavamo i super computer di allora e questo era un calcolo che io avevo fatto nel 1991 sul computer all'epoca più potente che c'era che era il Cray 2 dell'università di Lausanna e ci metteva circa 5 minuti per calcolare le proprietà fondamentali del silicio nel 2010 avevo questo telefonino per voi che magari siete esperti questo è un telefonino puramente Linux quindi sono stato in grado di installare tutti i codici di simulazione quantistica che noi sviluppiamo e lo vedete qui in 38 secondi ho fatto lo stesso calcolo sul mio telefonino che ho fatto nel 1991 e 1992 a Lausanna e quindi diciamo in generale quello che io dico è che sta arrivando un po' una rivoluzione soffice in cui inventeremo nuovi materiali non in laboratorio ma al computer non è soltanto un'idea mia persino diciamo questa è la Casa Bianca che nel 2011 ha annunciato il cosiddetto genoma dei materiali diciamo spingere gli scienziati a calcolare proprietà invece che a misurarle e molto felicemente qui in Svizzera da un anno e mezzo abbiamo un nuovo centro quello che si chiama il Polo Nazionale di Ricerca di cui sono io il direttore per la scoperta al calcolatore di nuovi di nuovi materiali e abbiamo 11 istituzioni coinvolte è un progetto di 12 anni il CSCS qui a Lugano è una delle istituzioni chiave e in realtà abbiamo 34 milioni di franchi per i primi 4 anni quindi coinvolgiamo moltissimi scienziati 33 diciamo questi sono i 22 scienziati computazionali più altri sperimentali in tutta la Svizzera eccoli qua quindi lasciatemi concludere magari salto queste ultime slides e voglio andare alle conclusioni allora ci sono delle conclusioni se volete scientifiche in cui come vi ho spiegato vogliamo veramente cercare di accelerare lo sviluppo dei nuovi materiali e in generale l'intero processo di invenzione scoperta nella scienza e nella tecnologia usando queste simulazioni quantistiche usando se volete questo aumento della capacità di calcolo esponenziale in cui raddoppio ogni 14 mesi e mi dispiace non sono riuscito a parlarvi nelle ultime 3-4 slide di come usiamo sempre di più i metodi della scienza dei dati per spingere la scienza computazionale e però prima di finire per davvero questa era una vigneta dell'economist che mi piaceva molto questi sono gli Stati Uniti che dicono vedete un attimo dove stiamo ancora scavando prima di trovare gas vuol dire petrolio benzina in americano però volevo lasciarvi con un po' di conclusioni magari per animare un po' di dibattito semplicemente per portarvele a casa e pensarci un po' sopra sono di conclusione la prima diciamo a che vedere con quello che vi ho raccontato oggi dicendo che la scienza computazionale sarà veramente la rivoluzione del ventunesimo secolo per la scienza in generale e per la tecnologia perché l'intero progresso scientifico e tecnologico si basa sullo sviluppo e l'accelerazione che ci danno le capacità computazionali una delle cose belle della scienza computazionale è che è profondamente democratica diciamo se voi siete uno scienziato sperimentale potete fare scienza di eccellenza soprattutto nei paesi ricchi magari 80 anni fa Rita Levi Montalcini poteva fare scienza di grande livello con i pulcini chiusi nel freezer però al momento d'oggi diciamo la scienza di punta viene fatta solamente nei paesi ricchi questo non è necessario per la scienza computazionale certo avere un computer come quello che vedete qui oggi aiuta ma non è necessario si può fare ricerca di qualità mondiale semplicemente su un laptop o su un desktop perché ha a che vedere moltissimo con intelligenza e conoscenza e compienza non solo ma mentre un laboratorio sperimentale non può essere replicato un laboratorio computazionale si compone di codici al computer di dati di risultati che possiamo e facciamo possiamo decidere di distribuire liberamente e quindi qualsiasi scienziato al mondo persino in Etiopia dove ero io può downloadare può copiare i codici che noi distribuiamo e fare sul computer le stesse simulazioni che facciamo qui a Lugano e l'ultimo pezzo è che la scienza dei dati e qui a l'Università della Sizzera italiana è stato appena creato un grande istituto per i dati sarà diciamo una delle nuove scienze del ventunesimo secolo per cercare di capire usando tutti questi dati che produciamo fenomeni complessi seconda slide di tre come vi ho detto diciamo un po' ottimisticamente che la scienza è la base di tutti gli sviluppi tecnologici e in generale la tecnologia ha un impatto molto positivo sulla nostra vita nell'80% dei casi diciamo questi sono numeri un po' a caso ma l'esempio dell'ammoniaca con i fertilizzanti e il tritolo era molto interessante purtroppo non penso che sia possibile prevedere le conseguenze di quello che facciamo questo non vuol dire che dobbiamo diciamo agire alla cieca però diciamo quello che oltre alla scienza deve esserci è l'etica individuale degli scienziati o collettiva della società e diciamo in un mondo ideale anche la politica che dovrebbe intervenire e l'ultimo esempio appunto ha a che vedere con l'etica e la politica perché diciamo sempre di più diventa chiaro che mentre noi riceviamo dei grandi ricevono dei grandi benefici della tecnologia siamo sempre più impotenti di fronte alle conseguenze della tecnologia e nel campo dell'informazione probabilmente vi è chiaro ma diciamo non soltanto diciamo passiamo non io ma insomma i miei studenti passano il tempo diciamo non in modi molto interessanti persino socialmente non interessanti però diciamo abbiamo sempre di più meno controllo sui nostri dati personali che vuol dire i nostri dati medici i nostri dati finanziari abbiamo intere nazioni che sono dedicate a collezionare le nostre informazioni e non stiamo facendo niente per proteggere questa privacy e questa libertà e in particolare secondo me per la Svizzera diciamo per la sua storia potrebbe esserci persino diciamo l'opportunità di ergersi a difensore della privacy dei dati personali la storia medica i dati che vogliamo salvare così e quindi con questo finalmente sono andato molto lungo concludo e vi ringrazio per averci ascoltato aspettare gli stessi farmaci in diverse forme cristalline l'ultimo esempio con un punto di domanda è diciamo i nuovi materiali per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione diciamo tutto lo sviluppo dei calcolatori del giorno d'oggi è basato in pratica sulla tecnologia del silicio per i microprocessori e sulla tecnologia dei materiali magnetici per lo stoccaggio lo stoccaggio dei dati e sarà così un tema che verrà fuori alla fine il fatto che i calcolatori sono fondamentali per noi scienziati e io parlerò molto di scienza computazionale non so bene quanto siano utili al giorno d'oggi per noi come cittadini secondo me abbiamo raggiunto un limite in cui non siamo più preparati a gestire le tecnologie dell'informazione e della comunicazione questo tornerà alla fine quindi non mi soffermo adesso voglio partire da questo voglio partire dal problema dell'energia perché secondo me è veramente il problema più importante che la nostra società ha e questo è un grafico che usa il cosiddetto indice di sviluppo umano questo è stato definito da Marty Assen che anche lui premio Nobel per l'economia originario del Bangladesh in realtà di Dhaka all'epoca non esisteva il Bangladesh quindi del Bengala dell'Ovest diciamo ancora dominio inglese comunque da lì è finito a Harvard e diciamo un po' di anni fa ha molto spinto l'idea di valutare la qualità della vita nelle diverse società mettendo assieme un po' di indicatori che hanno a che vedere con la mortalità infantile con il grado di istruzione con il grado di istruzione delle donne e così via quindi possiamo dire che i paesi che stanno in alto qui hanno una qualità della vita diciamo come noi ce l'aspettiamo infatti vedete qui se volete c'è l'Europa ci sono gli Stati Uniti l'Australia gli ratori dove si scontrano le particelle elementari beh ad esempio sono resi possibili dal fatto che diciamo questi fasci di particelle che vanno alla velocità della luce possono essere curvati grazie a magneti potentissimi che lavorano con dei circuiti superconduttori che lavorano con dei materiali che conducono la corrente elettrica con zero resistenza quando si va a una temperatura inferiore a 15 gradi sopra lo zero assoluto forse vi ricordate che due o tre anni fa in realtà il sistema di raffreddamento di questi superconduttori di alcuni di questi magneti superconduttori è esploso quindi una parte intera della galleria è diventata inagibile per molti mesi forse avrete sentito del premio Nobel per il grafene nel 2010 un materiale che sembra banalissimo diciamo il grafene è semplicemente uno strato atomico preso dalla grafite che è il materiale che c'è nel carbone o che c'è nelle nostre matite però quando viene esfoliato riusciamo ad avere semplicemente un piano sottilissimo di atomi esagonali come le cellette delle api beh si può fare della scienza interessantissima infatti i due ragazzi che l'hanno scoperto nel 2004 hanno rapidamente preso il premio Nobel come sapete qui in Svizzera c'è moltissima industria farmaceutica si inventano nuove molecole che sarebbero nuovi medicinali noi non ci occupiamo veramente di scoprire nuovi medicinali però la cosa interessantissima per noi è che quando si va dalla singola molecola alla forma cristallina che poi se volete sta nella pillola che tutti noi assumiamo beh le proprietà di aggregazione di queste molecole seguono diciamo le forme della scienza dei materiali che noi studiamo quindi capire in quali forme cristalline queste molecole si aggregano è importantissimo sia per capire la stabilità la biocompatibilità o semplicemente perché addirittura si possono brevnato nel bene e nel male dalla tecnologia mia nonna diciamo moriva di fame sostanzialmente come tantissime persone in Europa e alla fine la ragione per cui moriva di fame nel bene e nel male era che non riuscivamo a produrre cibo in sufficiente quantità e questo sarà uno dei temi che verrà fuori nel corso di questa presentazione e quindi io dico in fondo la tecnologia ha cambiato e continua a cambiare la nostra vita e ci soffermeremo nelle prime slide su come in realtà la tecnologia è stata resa possibile dai nuovi materiali e quindi io spesso dico in fondo noi usiamo i nomi dei materiali per definire le nostre ere quindi non è neppure una storia recente in fondo parliamo della storia dell'umanità persino prima della scrittura ci riferiamo all'età della pietra all'età del bronzo all'età del ferro potremmo dire che cent'anni fa o settant'anni fa diciamo il nucleare ha cambiato di molto la nostra vita il silicio la sta cambiando e volevo cominciare questa presentazione precisamente con degli esempi dei materiali di cui la nostra società ha bisogno che magari usa o semplicemente ha bisogno e non esistono perché noi ci occupiamo molto di pensare a quali sarebbero i materiali che possono servirci e questi sono un po' di esempi e ve li racconto con un po' di calma perché sono assolutamente importanti per capire cosa vuol dire fare scienza dei materiali cosa vuol dire cercare di inventare nuovi materiali al calcolatore prima di tutto forse questo è il problema più importante che abbiamo diciamo le fonti di energia combustibili fossili sono finiti ma non solo diciamo l'emissione di gas e l'effetto serra stanno cambiando diciamo il nostro il nostro clima quindi bisogna pensare e ve lo racconterò un po' meglio sempre di più a il professor Mazzari è estremamente piacevole da ascoltare e oggi ci parlerà di vedere un mondo in un granello di sabbia prego grazie grazie Maria grazie e benvenuti a tutti voi non speravo in un sabato mattina alle dieci e mezza di vedere delle persone e ho deciso di iniziare poeticamente questo è William Blake è una poesia molto bella dalle canzoni dell'innocenza che dice vedere un mondo in un grano di sabbia e vedere il paradiso dentro un fiore di campo contenere l'infinito nel palmo di una mano e tutta l'eternità dentro un'ora però in tutta questa poesia in realtà il grano di sabbia è il chip del computer è in questo senso il silicio con cui noi facciamo tutti i calcoli che voi vedrete tra un attimo e anche qui nelle sale nel centro di calcolo William Blake era un romantico e quindi c'è questa sua famosa litografia questo è Isaac Newton che in realtà è stato condannato in fondo al mare era quella che lui chiamava la trinità infernale degli scienziati inglesi quindi Newton Francis Bacon John Locke ma a me piace molto perché lui in fondo al mare continua a pensare e progettare insomma così questo era un po' l'inizio come Maria Grazia vi ha detto io diciamo vengo dalla fisica ma soprattutto applicata alla scienza dei materiali e quando parlo di scienza dei materiali magari le persone si chiedono cosa vuol dire cosa sono e io faccio sempre questo esempio se voi pensate a come è cambiata la vostra vita e come è diversa da quanto era diversa la vita dei vostri nonni o di quanto sarebbe stata diversa la vita delle persone di due secoli fa se vi fermate un attimo la cosa che è veramente diversa è il modo in cui viviamo che si può dire dominare altre forme di energia e ripensare la nostra società e la nostra industria attorno ad altre forme di energia altri esempi diciamo abbiamo bisogno di nuovi materiali per cercare di proteggere l'ambiente abbiamo bisogno diciamo di filtri per cercare di evitare che il mercurio entri in atmosfera abbiamo bisogno di materiali che siano in grado di assorbire diciamo i disastri chimici che ogni tanto facciamo alcuni di voi avranno probabilmente degli impianti al titanio che è un materiale biocompatibile che permette diciamo agli osteoblasti di costruire attorno alla mandibola attorno al nuovo attorno al nuovo dente del materiale organico che si integri con questo titanio inorganico oppure diciamo le protesi per l'anca che sono ricoperte di nitruro di titanio qui in Svizzera diciamo una parte importantissima dell'economia svizzera sono i prodotti di alta tecnologia o di alto valore che può andare dall'elettronica alla micromeccanica all'orologeria e noi lavoriamo tantissimo con l'industria svizzera per cercare diciamo di inventare o scoprire nuovi materiali che continui a mantenerli competitivi sempre più importante diciamo diventa il controllo dei cibi per capire se sono originali e se sono contraffatti ma soprattutto per capire se sono diciamo ancora commestibili a voi non sembrerà magari un problema però noi in realtà buttiamo via un sacco di cibo perché non sappiamo se è scaduto o meno e più si va anzi al di là diciamo dell'Europa occidentale più si va nei paesi in via di sviluppo un sacco di cibo viene gettato perché non è stato conservato bene o perché non sappiamo dire ancora se sia possibile mangiarlo o meno quindi questi erano se volete esempi in cui nuovi materiali sono utili per la società la scienza di per sé ha bisogno di nuovi materiali se voi per un attimo andaste al CERN a Ginevra in questi grandissimi accettamenti